Carissime e carissimi che mi seguite da poco o da tanto, ben trovati a tutti quanti voi dalla vostra Life Coach Chiara Grandin dopo un lungo periodo di assenza dai social e dal video. Oggi sono qui per registrare questo video in cui voglio comunicarvi una decisione importante che Alessandro ed io abbiamo preso a febbraio del 2000, si è concretizzata a febbraio del 2022 che abbiamo preso a dicembre 2021, un ringraziamento sincero dedicato a tutti i nostri clienti e non solo e due news importantissime che sono qui pronte e imminenti per accadere a maggio 2022 e che potrebbero interessarti. Parto dalla decisione che è stata quella che a febbraio 2022 Alessandro e io siamo entrati ufficialmente nella 3PGC ovvero la Three Principles Global Community come referenti italiani e punto di riferimento italiano nella diffusione dei tre principi nel mondo. Questa è una cosa che ci fa sentire onorati, grati e ci auguriamo proprio di collaborare anche con la community, anche come Tre Principi Italia, con anche Analisa Salmaso ovviamente, alla sempre di più alla diffusione dei tre principi e di questo straordinario infinito potenziale in cui ognuno di noi può entrare ed è un solo pensiero di distanza. Il ringraziamento che voglio esprimervi, torno un attimo indietro, grazie a questa decisione della 3PGC ringraziamo in particolare Marina Galan che c'è stata dietro un bel po' e grazie a Marina abbiamo deciso, particolarmente grazie a lei e anche a Ron Turner abbiamo deciso di entrare a far parte e ci auguriamo che questo porti tante opportunità anche per noi in Italia. Il secondo è un ringraziamento, è un ringraziamento che sia io che Alessandro, per chi di voi non sa di chi sia Alessandro mi riferisco a Alessandro Saramin che oltre che essere il mio uomo è anche il mio partner e mio marito, il mio partner lavorativo da 17 anni. Un ringraziamento che vogliamo esprimere è in primo luogo a tutti i clienti storici che non solo si sono fidati e continuano a fidarsi di noi e a creare insieme a noi una vita leggendaria ma soprattutto mai come in questi due anni ci avete veramente dato una fiducia incredibile inviandoci tantissime persone a voi care e credo che non esista un onore più grande come libero professionista del vedere che persone con cui hai lavorato per anni continuano con fiducia con e con grandissimo affetto e con grande proprio con grande fiducia in quello che noi andiamo a fare a inviarci le persone a voi più care, amici, familiari, parenti, vi ringraziamo per questo e ci auguriamo di continuare a creare opportunità straordinarie nelle vostre vite. Il secondo ringraziamento corollario che voglio fare è a tutti i nuovi perché in questi mesi ho ricevuto tante mail e tanti commenti anche se io sono stata assente sui social di persone di voi di cui non conosco nemmeno il viso ma che mi avete ringraziato per un video che ho fatto, per un articolo che avete letto, per il libro di tre settimane con il genio e è stato bellissimo credetemi leggere le vostre piccole e grandi trasformazioni in fin dei conti è per questo che io faccio questo lavoro. Infine due news importantissime a maggio 2022. Allora cosa accade a accade che il 21 e 22 maggio farò dopo tanto tempo un nuovo corso online aperto a tutti. Alessandro e io abbiamo preso questa decisione di tornare a fare dei corsi introduttivi online sui tre principi per persone che si stanno avvicinando a questa comprensione. Il corso si intitola vivere dall'interno all'esterno, non c'è una pagina internet al momento ma ci sarà, perciò chi di voi è interessato a capire come funzionerà il corso, a saperne di più, basta che mi invii una mail a chiara chiocciola chiaragrandin.com e ti invierò il programma completo che te lo riassumo. Consisterà in un corso online quindi seguibile dalla comunità del tuo smartphone ovunque tu sia di un computer online il 21 e 22 maggio che è un sabato e domenica da cui poi seguiranno quattro webinar di mercoledì sera per continuare a approfondire la comprensione. Quindi vuoi saperne di più? Invia una mail a chiara chiocciola chiaragrandin.com e ti invierò il programma completo che potrai valutare. La seconda news vi dico anche che per me sarà un vero piacere, il corso è già confermato, ci sono già un bel numero di partecipanti che hanno deciso la loro partecipazione di esserci e sono felicissima di questo. A chi è rivolto tutte le persone che vogliono esplorare di più la comprensione di tre principi fondamentalmente vogliono essere più felici, avere più chiarezza, meno confusione, più chiarezza mentale e iniziare a vivere la vita da uno spazio di maggiore leggerezza e di bellezza a prescindere da cosa accada lì fuori nel mondo. Ultima cosa che accadrà a maggio 2022 tanti mi hanno scritto in privato in pubblico e dire chiara ma ci avevi parlato di un tuo libro in uscita ma quando esce sto libro? Allora ragazzi e ragazze la motivazione il libro è finito da febbraio, è confezionato, è fatto. Il motivo per cui con RK la casa editrice abbiamo aspettato a farlo uscire ufficialmente è perché ci siamo resi conto che non era un po' il momento giusto e quindi in buona sostanza il libro uscirà, è in uscita a maggio 2022. La data precisa non ce l'ho ancora ma appena ce l'avrò state sicuri che ve lo comunicherò. Pertanto chi di voi stava aspettando un nuovo libro dopo il genio è arrivato. Vi anticipo che sarà molto diverso dal genio ma mi auguro proprio che sarà un'occasione per tutti coloro che vogliono entrare sempre di più in uno spazio di infinite potenzialità. Pertanto siamo all'interno della 3PGC, ringraziamo tutti quanti voi che ci seguite da poco da tanto e che continuate a darci la vostra fiducia. Vi ricordo il corso del 21 al 22 maggio e se volete info mandatemi una mail e vi risponderò con estremo piacere ed infine è in uscita il mio libro e finalmente abbiamo un mese di uscita. Tornerò nel mio sito internet, continuerò a pubblicare una volta al mese sicura, forse due, vedremo in base a tutti gli impegni delle cose che stanno uscendo e vi anticipo già anche che ci sarà un tour del mio libro in giro per l'Italia, in alcuni posti in Italia e che ci sarà anche una presentazione online. Quindi chi di voi ha voglia di addentrarsi con me in questa nuova avventura sarete tutti quanti benvenuti. Io vi auguro una fantastico inizio primavera che è iniziata a marzo ma qua fa ancora un po' freddino, non so da voi. Vi auguro di rivedervi presto e mi auguro soprattutto che sia il tuo momento di esplorare i principi e di addentrarti con me nell'infinito potenziale dell'ignoto e di tutto ciò che ancora non sai che maggio 2022 sia la volta buona per te anche e di averti con me. Un abbraccio a tutti quanti e buona settimana dalla vostra coach.